Tra le varie sanatorie sarà possibile condonare le violazioni formali, quelle che sono state ininfluenti sul pagamento delle imposte e che sono state commesse fino al 31 ottobre 2022. L'importo dovuto sarà di 200 euro per ogni periodo d'imposta. Il pagamento potrà avvenire in due rate il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Un provvedimento importante per consentire a chi ha sbagliato in buona fide di sanare con poco errori che non hanno gravato sulle casse dello stato.